Azzè, eccoci qua, buonasera, benvenuti a Fisermonicando, che grande serata questa sera, abbiamo fatto veramente come dice sempre by Marco, un rebelote, abbiamo degli ospiti grandissimi, ma prima andiamo a salutare come sempre il nostro staff, ciao Baldo Giovane, informa più che mai, ti ho ridato l'accendino, tutto contento, ciao Lellina, ma chi hai da parte? Eh, stasera, che due dei maschiacci, buonasera Duobarbera, come va? Benissimo, ti vedo particolarmente felice Marco questa sera, e beh questa sera si, si tocca un pezzo di storia della musica, mica da ridere, e poi musica e la fisarmonica, infatti, infatti, ok, grazie alla regia, informa più che mai, sarà una bellissima serata e adesso andiamo a scoprire gli ospiti di Fisermonicando, Tiziana Ho fatto la sigla, perché abbiamo degli ospiti importanti, innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti, non vi muovete da lì, perché adesso vi presento tutti i nostri ospiti che sono grandiosi, alla mia destra un caro collega, un caro amico, mio Cavallero Ciao Tiziana, buonasera a tutti, io sono qua Grazie Leo Poi parleremo, tutti insieme faremo un po' di rebelot come dice Marco Poi abbiamo Pinino Libè, alla mia destra, splendidamente un grande musicista Ciao a tutti Poi dobbiamo passarci il microfono Come sempre ti ho detto bene Pinino State la pettinatrice, sei carinissimo Sta bene così, è vero? Ciao Piero Alla mia sinistra, Pier Caligaris Ciao, ciao a tutti Poi un grande, un grande della fisarmonica I miti, i miti Il signore, il signore della fisarmonica, il signor Lucchini, che piacere Ciao Tino, diciamo il più grande Ma non è finita qua, perché abbiamo un altro grande della musica Pier Flamini di Castellina, dell'orchestra Castellina Ma che serata questa sera Ma quanta gente ci hai portato Marco Allora, fisarmonicando, è o non è l'originale? Certamente È o non è l'originale? È l'originale, come questa sera parliamo dell'originale Castellina Pasi Questa sera avremo delle documentazioni particolari Dei filmati particolari Parleremo, finalmente scopriremo la storia della fisarmonica di Castlena Insomma, due ore e mezza insieme Salutiamo tutta Europa, tutta Italia Noi partiamo ufficialmente subito con un filmato storico Don Camillo e poi live Pier Flamini e Pier con La Gallina Mi raccomando, non cambiate canale Un artista è avuto successo enorme in questi ultimi tempi L'avrete visto tutti sul secondo canale No, pardon Sul canale per canale Miei cari film voli vicini e lontani Buonasera come va La pace sia con voi Miei cari parrocchiani E' ora di carmare i bollenti spiriti Cerchiamo di trovare delle maniere più belle Per non avere un orto col nostro prossimo In questa Pasqua meravigliosa Dove c'è la pace Dove si può ancora fare un gesto di un fiore Dare una mano a chi ha bisogno Sentire l'amore nel cuore Miei cari film voli Miei cari parrocchiani Cerchiamo di non porre forza A chi vuole l'alternativa Noi Non vogliamo alternative Noi abbiamo l'amore nel cuore Noi siamo quelli che lavorano E allora Miei cari film voli Miei cari parrocchiani Non ci dobbiamo far intendere Per quelli che non siamo allora Dobbiamo dire ancora una volta Cerchiamo di portare avanti il nostro discorso In faccia a tutto il mondo Per poter dire che ce ne freghiamo altamente Naturalmente l'ho preso un po' alla larga Miei cari film voli Miei cari parrocchiani Tutti insieme Non facciamoci confondere Non scoraggiamoci Guardiamoci serenamente nelle palle degli occhi E allora potremmo dire ancora una volta Ci avete portato via il ponte Ci avete portato via la festa dei santi Abbiamo rimasto il San Giovese E allora brindiamo la gioia, la pace, l'amore, la felicità, l'allegria Di Pasi Castellina E così sia Bravo! Bravo! Molto stanco, molto stanco Ha avuto una campagna Questi ultimi giorni Faticosissima la rosa Indiamo dalla confincurria Nei più grandi centri urbani Molto stanco il camillo Suonerà per il ciccio E per tutti voi Lo filmano a due Ma il dancer celeberrino Con la prima d'argento E come già Oh, meno male C'erano salvi E' arrivata meglio Sì, oh Dio Attenta, guarda Guarda che al pivento Tu mi contatti un po' Attenta Andiamo a fare un altro Era una nuova passione E' visto il franzo Delle sframbole Il ricamino I perpletti La ricombina Sì, oh Dio E non c'è più E' questo che va da E' questo, oh Christian Allora la base è tutto lì Ah, brava, brava Oh, bene, bene Facciamo un piccolo applauso Su Ah, che bravo Non sembra Ma sapeste come si tiene? E ora il solito gire Finito col motorino Ciccio Ciccio E ora è bellissimo Dai, dai, dai Sede di nuovo Suonava una volta sola Per amore Dai, dai, dai Ragazzi Mica bau bau Micio micio Questa è un'esclusiva Vero? E' un'esclusiva Sono rimasto sorpreso anch'io Perché ci sono degli amatori Che fanno dei regali Delle volte Questo è un regalo Per i telespettatori Di Fisarmonicando Vogliamo ringraziare Anche quel signore là Che poi riprendiamo No, Enzo Enzo Grazie Enzo Poi vieni Poi vieni Poi vieni Ricorda i vecchi tempi Ascolta il motivo Che andiamo ad ascoltare ora E' il Valzer della Gallina Che è un brano Che è stato eseguito Per trent'anni Con l'orchestra Castellina Pasi L'inizio delle danze Per le gare di ballo Era il Valzer della Gallina Era un Valzer curioso Allegro Brioso Ma soprattutto col tempo Noi siamo quelli del tempo Eravamo quelli del tempo Anche oggi siamo nel tempo Ho detto male Infatti mi piace Dal vivo abbiamo una diretta adesso Pronto Aspetta abbiamo una diretta Pronto, pronto, pronto Mi piace ballare Stasera È un Re Belotto Pronto? 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 Sì Ciao Marco Io sono Giorgio di Carugate Ciao Giorgio Ciao Come stai? Bene Hai visto che bel regalo? Sì Tra l'altro volevo Salutare Ho fatto Piazza Migni Perché si ricorda di me Io sono venuto tante volte A sentire Castellina Complimenti Complimenti Mi ricordo Mi ricordo Complimenti Che veniva sotto il palco Venivi Stavi sempre in piedi davanti al palco Vero? Sì Che memoria Con le mani appoggiate così Di la verità Sì È vero È vero Ho fatto tante salate Sei stato sincero Con Castellina Ecco io Ti abbraccio di cuore Prima Migni Grazie Abbraccio di cuore Ti mando un bacione Ciao Giorgio Grazie a te Ciao Dedichiamo a tutti gli ascoltatori Questo brano caratteristico La gallina dal vivo a Fisormunica E subito dopo Mandiamo un brano di Samuel Vero? Grazie caro Grazie a te 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 Grazie a tutti. Oh, guarda qua che roba, becchette le lacrime agli occhi, questa è la storia. Devo essere sincero, addirittura c'è ancora Pasi. È l'inizio dell'orchestra Castellina Pasi, con tutti gli elementi che siamo stati insieme per vent'anni, dal 70 al 90. Siamo rimasti sempre gli stessi, un record eccezionale. Se iniziamo dal... In questo momento vedete Irene e Mario Patuelli al basso, poi fare il giro all'inverso. Arrivano, questo sono io, Mario, il bassista cantante, il maestro Pasi, che era il conduttore intellettuale, era l'intellettuale dell'orchestra. Qui sono io col clarinetto, mentre sono in esibizione il batterista cantante Gable, che ricorda sempre le battute favolose, il modo di essere allegri, anche in un momento difficile. Perché allora, era una cosa molto importante, allora, quando si cominciava a suonare alle 8.30, fino alle 3 di notte, non si smetteva. Facevamo sempre quattro brani ogni turno e poi si cambiava. Tant'è vero che siamo stati un po' sulle scatole su molti, su molti gestori, perché venivano, vogliamo questo, vogliamo quest'altro. Pinino Libè, che è stato uno dei nostri primi allievi, che è venuto con noi a sostituire Castellina, perché lui suonava meglio di Castellina, suonava tanto bene. Ricordiamolo. Ricordiamolo. Pinino Libè è stato testimone... Sì, è stato testimone che era un bambinetto. Pensate un po', ve la dico perché questo è un aneddoto che non sa nessuno. Ve lo dico e ve lo ripeto, ve lo confermo. Andiamo a casa di Pinino Libè, invitati dalla mamma, ti ricordi? E se non dico il vero, raccontalo. E mi dice, vi voglio fare... Maestro dice, maestro, vi voglio fare sentire un brano che ho... Che conosco dei suoi, e fece un brano che mi sembra che fosse, se ricordo bene, che fosse il campanello. Mi sembra, mi sembra il campanello, no? In questo brano, il Castellina, nell'incisione, siccome si faceva direttamente otto elementi, si suonava tutti direttamente all'Antoniano di Bologna, si faceva una cosa così, con dieci microfoni, e si suonava. Chi sbagliava, si arrangiava. Castellina fece due errori, che erano un po' banali, ma che avevo scroccato delle note, ti ricordi? E fa questo brano, fa l'incisione, Pinino ci fa sentire il brano. Pensate, è stato così bravo che lui lo eseguiva, il brano, con i due errori per tutta la vita. Anche adesso lo porto qui. No, Pinino. È una verità, era così bravo a copiare, ad ascoltare, perché lui ha un orecchio che difficilmente si riscontra nei musicisti. Lui, come ascolta un brano, lo esegue con la fisarmonica, perché la musica è una cosa secondaria, è il sentimento, è la passione, è la fisarmonica. Il cuore. È molto più il cuore. Allora, adesso noi, Andrea, andiamo in pubblicità? No, ci funziona la notizia della messina di onda che possiamo andare in pubblicità in 5 minuti di notizia. Allora possiamo fare un saluto. Abbiamo i saluti, va bene? Anche i saluti. Grazie, Andrea. Grazie. Chiudiamo. Allora, io vado con i saluti. Evelyn da Torino, fai i complimenti a Baimarco e richiede, eravamo in 19. Silvana di Vrallo, saluta tutti e in particolare Pinino Libe, fai i complimenti a tutti. Sì, tommeno. Loredana di Salò, complimenti a tutti, salutaci Salò. Antonella di Barcellona, complimenti per la trasmissione. Saluti siamo la Sicilia. Giuseppe di Potenza, saluti a tutti gli ospiti. Grazie. Domenico di Lodi, fa un saluto al maestro Beghetti. A Pinino Libe. Sì, e al Bidello Sandro Allario. Grazie. Mi puoi portare gli altri saluti per conoscenze. È un abbraccio a Baimarco e a Tiziana, ma grazie, grazie. Io colgo l'occasione, posso farlo, per fare gli auguri a mio babbo che compie gli anni quest'oggi. Auguri, complimenti e auguri. Adesso si emoziona. Auguri, auguri. Ci sono io, ci ammigiano. Ne approfittiamo. Grazie. Quanti saluti, ma che bello. Vai, vai, vai. Anita Di Pavia richiede l'uccellino suonato da Framini. Aspetta, uccellino, c'è una diretta. Ma mi piace questo pezzo, scusa, è divertente. Pronto? Come ormai. Sempre che pensate male, ma insomma. Pronto? Pronto? Pronto, vai Marco? Sì, ciao. Ciao, sono Gianni, parli di Marcarola. Potrei parlare un attimo con Pier Caligaris? Pier Caligaris arriva. Eccolo, eccolo. Arriva, perché sai, Pier... Pier, vieni. Eccolo, eccolo. Pronti, pronti, pronti. Chi sei? Sono Gianni, dalle cappelle di Marcarola, l'amico di Giorgio Bicchieri. Sì, ciao. Oh, madonna, ciao Gianni. Ciao, ti stiamo, ehi? Sei bene? Bene, tu? Bene, grazie. Non vieni perché non ci vediamo, eh? Eh, dai. Vieni a sentire, sono con l'orchestra di Pirino Liveio adesso. Ma, eh, dov'è che mi fai? Adesso. Dopo tanti anni, dai. E dov'è che siete a suonare? Eh, guarda, poi te lo so dire dopo, dai. Ma te, abbiamo una diretta. Ma, ok, ciao, ciao, ciao. Grazie Gianni, guarda, stasera. Siamo un po' di fretta. Ciao Gianni, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Intanto che arriva l'altra diretta, Tino, la prima fisiormonica di Castellini era una baracca. Pronto? Poi ne parliamo. Pronto? Perché questa è la seconda. Pronto? Buonasera. Buonasera. Vorrei poter parlare con Flaminini. Eccolo, tutto per lei. Buonasera. Buonasera. Sa chi siamo? I coni di Ciappoletti, papà e mamma di Silvia. Famiglia? Di Capronba. Un bacio bacio. Un bacio bacio. Un bacio bacio. Complimenti, l'accetto a braccio aperto. Siccome mia moglie non c'è, qui allora ci vogliamo divertire. Un bacio a doppia mandata. Uno che arriva e uno che va. Ecco. Veloce. Poi andiamo in fase, andiamo in pubblicità. Pronto? Sì? Muigna. Eh. Ciao. Chi è? Ciao, ciao. Sono la Clara e Bruno di Castellini. Volevamo fare tanti saluti, tanti complimenti a Pinino e tutti il resto. Grazie. Ciao Pinino, noi siamo il resto. Eh, ciao Pinino, tanti ucconi. Ciao. Pinino e lui, Meo, noi siamo il resto. Sì, siamo il resto. Tutto il complesso. Pinino, sei sempre il migliore, eh? Ciao, ciao, un bacione. Ciao, ciao, ciao. Non c'è bella da dire. Allora ci vediamo dopo, andiamo in pubblicità? Andiamo in pubblicità? Andiamo in verità. Va bene, ok, ci ritorniamo dopo, mi raccomando, eh. Ciao. Dove le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica. La Fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio. La Fisarmonica dei numero uno. Semplice, by Marco. In via Bovio 16, a Stradella. Telefono 0385 40501. Aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 19, con orario continuato. Festivi, dalle 9 alle 12. Su web, www.bymarco.it. Grazie. 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 Buonasera, bentrovati. E questa sera abbiamo il piacere di ospitare, come sempre, il nostro sponsor, che è il ciabattificio Panda di Angelo. Abbiamo tre modelle speciali questa sera con noi, che ci presenteranno le ciabatte del ciabattificio Panda. Vi ricordo che come fare ad avere queste splendide ciabattine. Riprendete le nostre modelle, perché sono tre modelle speciali che ci ha portato Angelo questa sera. Spero di stare seria fino alla fine, se le nostre modelle ve lo permettono. Come trovare? Innanzitutto dovete andare a Campo Spinoso, a Bavia, chiedete di Angelo. E questo è un messaggio chiaramente riservato a chi fa i mercati, a chi ha, ecco, vedete la prima modella che vi sfila, queste splendide ciabattine del ciabattificio Panda, a tutti i supermercati e ai negozi. Mentre invece le signore, che sicuramente indosseranno queste splendide ciabattine come le nostre tre modelle di questa sera. Io cerco di stare seria, ma è impossibile. Voi cosa dovete fare? Andare dal vostro commerciante di fiducia e richiedere. Io vorrei avere la ciabatta, queste splendide ciabattine del ciabattificio Panda. Così loro cosa fanno? Chiamano il nostro Angelo a Campo Spinoso. E riceveranno queste splendide ciabatte e voi le potete trovare dal vostro negozio di fiducia. Io vorrei ancora vedere un attimino le nostre tre modelle. Le nostre tre modelle ancora. Cosa fate? A tempo di musica? Eh, ma insomma. Comunque anche indosso a queste splendide modelle, devo dire che le ciabatte del nostro Angelo, del ciabattificio Panda, sono veramente, veramente molto belle. Grazie. Coloratissime. Potete fare anche dei splendidi regali per Natale, per cui, perché no? Vero Marco, vero. Andiamo in musica. L'avete riconosciuto? Ricordate, abbiamo una diretta, ricordatevi. Sul nostro duo Barbera, bravi, siete stati bravissimi. Non ci fate un applauso. Bravi, bravi. Antipatiche. Pronto? 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 Chi c'è? Sì, pronto. Pronto, buonasera. Ciao Carlo. Senti, volevo salutare, grazie a Graciela e grazie alle ciabatte. No, lei è concettina annunziata. Dunque, devo farvi i complimenti perché sul video siete eccezionati. Però, oltretutto, voglio fare i complimenti a tutti gli ospiti che hai visto stasera perché credo che questa sia una serata veramente da mettere in cornice, secondo me. Doc, in tutti i sensi. C'è un motivo che poi dirò alla fine del programma. Ecco, va bene. Comunque voglio salutare Finino, voglio salutare tutti perché bene o male sono contentissimo di vedervi da casa e sono soprattutto soddisfatto dell'immagine che sto vedendo adesso. Grazie. Ciao, ci vediamo alla prossima. C'è un amico, grazie. Andiamo in musica, beh dai, che poi torniamo insieme a Preflamini tutta la banda. Arriva Les Villani con Brasiliana e poi Lelle Daniele con Baccon. Dimmi che ti chiedo. Grazie. 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 Tu già lo sai, ogni istante che vivo lo dedico a te, mai riuscirò. a star senza i tuoi occhi che mentono un po'. Ricorderò le nostre corse alla spiaggia laggiù, baci all'altra salate, non chiedo ora di più. Dimmi te che ero, con il tuo sguardo magico, fammi ballare, fammi sognare, come sai fare tu, nel mio pensiero, un sapore nostalgico. la scienza d'allare, fammi ballare. Nel mio pensiero, un sapore nostalgico. Lasciati andare al profumo del mare. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Dopo la sfilata del Sebattiticio Banda abbiamo i saluti. Sì, sì, Gianna di Montoggio, un bacione grosso a Caligaris, a Marco e a Tiziana. Grazie. Famiglia Gemma di Alessandria, saluti a Flamini e alla sua famiglia. Grazie. Carlo di Ortona Como, amico del Primo Fenoli, saluta tutti. Grande Primo Fenoli. Rosetta di Milano, saluti a Pinino Libè, un bacione a tutti. Bruno e Rita di Sestri Levante, per Pinino e Pier, cari saluti. Mario di Valle Cannobina, richiede chitarra vagabonda e fa un saluto a tutti. Va bene. Carlo e Domenica di Carmagnola salutano Pinino Libè, il duo Barbera, Caligaris e tutti gli ospiti. Mariuccio e Tullio di Torino, complimenti per la trasmissione, richiedono un pezzo di Samuel che è appena andato. Loredana di Salò, con tanto amore dalla tua mamma per Dani e poi un bacione. Antonio di Roma, complimenti a tutti. Ciao Antonio. Marisa e amici di Nizza Monferrato salutano Caligaris e tutta la compagnia. Giulia di Biella, complimenti a tutti, un bacio a Caligaris. Dario di Broni, che è un fisarmonicista, saluta tutti gli ospiti. Dario dello Stabba in Marco e Lucchini, ciao. Poi Andrea di Cecina, saluta tutti. Aldo e Maria di Genova, saluti a Flamini e a tutti gli ospiti. Toscana, Oela, Liguria. Dante di Cormano, richiede il Carnevale di Venezia di Carlo Venturi, fa i complimenti per la trasmissione. Grazie. Anna Enrico di Voghera, saluti a Lucchini, un bacione a tutti, in particolare a Marco, Duobarbera, Tiziana e Pinino Libè. Anna Enrico di Voghera, Tiziana. Roberto Di Lecco, richiede un brano dell'orchestra priva e fa i complimenti per la trasmissione. Vittoria di San Giuliano Milanese, saluti a Pinino Libè e a tutti gli ospiti. Ce l'abbiamo quasi fatta. Gian Maria di Piacenza, saluti a Bai Marco, a Pinino Libè e a tutti gli ospiti. Ciao, ciao, ciao. Germana e Cristina di Monte Calvo, saluti a Marco, Tiziana e a tutti i presenti. Piera di Torino, complimenti a tutti. E dice, moglie di Diego del Liscio DJ. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Deborah Luccia, ciao. Ciao Deborah, un bacione. Di Broni, saluta tutti e un abbraccio a Lucchini. Deborah, prossimamente mi raccomando qui a Fisermonicando. Andrea, mi puoi preparare per cortesia mio cavallero? Grazie. Tino, dicevamo, qui è il campione del mondo delle Galapados. Poi ve lo presento. Mi amico Luigi. Allora... Ciao An. Chi l'è? Saluta... Sì. Ciao An e ciao Mapi. Che sono moglie... Allora Tino, parliamo di questa famosa Lucchini... Ah, perché sennò qua tutti hanno la Lucchini del maestro. Eh, sì. Allora, la prima che è stata costruita abbiamo detto che era una... Una baracca. Ecco, una baracca. Mi ha detto proprio... Perché è stata... Pocca anzi mi ha detto... C'è una cosa particolare... Particolare. Su questa fisarmonica. Era una baracca. Era una baracca, però il maestro Castellini ci ha messo le mani. Ci ha messo un po' le mani. Non va. Non va. E siccome è un aneddoto bellissimo, mai raccontato, non mi sono mai permesso, ma oggi buonanima, sorriderà anche lui perché noi poi ce lo raccontavamo nel pulmo quando eravamo nei viaggi. La fisarmonica non funzionava. Lui era nero. Conoscendolo. Era nero. Nero. Immaginate che era nero quando il tempo era buono. In casa, la sua signora è dovuta scappare di casa, lui ha smontato la fisarmonica con il cacciavite e via andare. Poi non sapeva dove mettere le mani. con il martello e con lo scalpello sono saltati via tutti i bottoni che sembrava che avessero spaccato un cocomero. E per la casa erano stesi dappertutto. E chi è stato quello che l'ha rimesso il mondo? Tino Lucchini. Tino Lucchini. Allora, quindi questa attuale che è ancora di proprietà, lo diciamo, dell'orchestra, quella che stanno usando, in realtà è la seconda, Tino. La seconda. La seconda. Che è un capolavoro. Che è un capolavoro. Ha ben 35 anni questa. Se la prima era una baracca, dobbiamo fare in modo di fare una cosa che va bene. Ci siamo messi e, appunto, un po' di qui, un po' di là. Insomma, abbiamo fatto questa fisarmonica che poi è una meraviglia. Lo diciamo ufficialmente, vedo che abbiamo qua il signor Tino Lucchini. Questa è l'originale. Quella lì è l'originale. Che stanno ancora suonando. Quindi non ce l'ha nessuno. È ancora lì. È ancora sul palco. E ancora sul palco. Per poterla sentire suonare da altre mani, valide e bravi. Valide e sul palco. Però, chi la vuole ascoltare questa fisica suonata bene, la deve, deve andare, avere il piacere di ascoltare, di andare a trovare l'orchestra. L'orchestra. Poi noi ne abbiamo fatte altre due, dorate. Sì, dorate, però... Grazie a Dio. Dillo che l'ho fatta io che non ci credo. Sì, no, ma quella lì le doperavano. Che non ci credo. Bravo. Bravo. E non ci credo. E naturalmente quella piccola ridotta la doperava per fare le incisioni, perché era leggera. Quella di tutto Pepe? Quella di tutto Pepe? Quella di tutto Pepe? Beh, quella lì anche lei, ma quella che doperava per le incisioni era più leggera. Era più leggera e più piccola. sentirli in braccio. E poi c'è una cosa grossa che hai fatto te. Diglielo. Diglielo. Ha fatto il bandeon. Quei tanghi famosi, quei grossi successi come Amico Tango e come tanti altri. Eh, ma no. Che poi mi ha detto, ma cosa mi hai fatto? Adel maestro, ma mi ha detto il bandone e ho fatto il bandone. Dai, poi continuiamo a parlare. Io vorrei fare, visto che stiamo parlando anche del maestro Girardi, facciamo un applauso anche al grande Sandrino Piva, visto che siamo qua tutti insieme. Certo. Ciao, ciao. Auguri, auguri, auguri. Dimmi. Mandiamo un video, quello di Neo, e poi andiamo in pace. Va bene. Quindi arriva Neo Cavallero con la campana del viaggio. Del viaggio. Ok, grazie. A. B. B. A. L. A. A un solo giorno e tutti quanti, stretti intorno, che la portano alla chiesa. La campana del villaggio, oggi suona anche per lui. E di cielo è come un fiore che si apre agli occhi suoi, ma la gente che lo guarda c'è un altro come noi. Hanno scelto già il suo nome, la campana suona ancora mentre il sole se ne va. La cala al vento nella valle, la domenica di Pasqua, due ragazzi. Lui ha vent'anni di lavoro, la sua donna gli assomiglia, la sua donna. Il villaggio, oggi suona anche per noi. La promessa di una vita che sarà divisa in due. E l'amore li accompagna, la vita è tutta tua. E il tempo batte a volte, la campana suona ancora mentre il sole se ne va. La campana del villaggio, anche oggi suona lui. Un riposo tanto dolce, non l'aveva avuto mai. Un riposo tanto dolce, non l'aveva avuto mai. Un riposo tanto dolce, non l'aveva avuto mai. Se ne va. Un riposo, festivi dalle 9 alle 12 su web www.buymarco.it È tutta un'altra bandiera. Grazie. 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 Nel momento che parliamo, ascolteremo il prossimo motivo, faremo passare anche delle foto storiche, gentilmente, portate da Piazzoni, io ti ringrazio, gli amici di Fisarmonicando ti ringrazio. Ma questa foto è storica perché avete vinto un grande premio, lo diciamo dopo. Dopo, con l'uccellino, aspetta, con l'uccellino, vai con i saluti. L'avevano anche richiesto, forse Anita, Anita di Pavia. Facciamo gli auguri a un bimbo che questa sera compie due anni, che si chiama Simone. E qui c'è un certo baffo che lo conosce bene, giusto? Simone, auguri, auguri, auguri! Ah, il campione delle gala fatti. Eh sì, sì, lo conosce bene Simone. Gianni Di Asti richiede un pezzo di mio cavallero, i complimenti a tutti, lei appena è. Vediamo di metterlo un altro, magari mio. Angelo di Mizza Monferrato saluta Pier Caligaris. E poi c'è un saluto particolare a Luigi e a Marco con la canzone del Merlut. La canzone del Merlut? Chi è? Chi è? Che lo dice? Vieni, 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 mi puoi beccare da vicino? Io lo so chi è. Omar! Faccia da Bigu! Ciao Omar! Morlus! Vi date del Merlut l'uno con l'amo, va bene, ok. Prima o poi la faremo questa canzone. Abbiamo una diretta, abbiamo una diretta. Pronto? Pronto! Pronto? Sì! Un ciao al più grande Tino. Vai, 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 vai! Ciao Paolino! Paolino da Santa Mena delle Versi, ciao! Insomma, stasera non potevo esegnermi di telefonare per fare un saluto al grande Tino Lucchini. Ah, non c'è nessuno. Ti ricordo in quella magnifica serata del tuo e tanti anni di bisarmoniche a Sandro Cinese con Sandrino Pira. Mi avete dato una serata di 50 kg di cioccolato che c'era lì. Chi ricorda delle visarmoniche di 50 kg di cioccolato e di verdagini? 55 kg li ho sbaffate, nemmeno un bottone mi la sa, nemmeno un confetto. Io che la fate lo speaker non l'ho sbagliato. No, no, ma l'ha mangiato chi non poteva mangiare? L'ha mangiato tutti. Dì, e io ce l'ho filmato, Marlo ce l'ha anche lui. Ce l'ho anche io. In una delle prossime serate vediamo eh Marlo. Sì, sì, siamo già d'accordo. Paolo, devo tagliare perché stasera è un rebelò. Sono contento. Ciao. Ci vi ando domani sera. Ciao. Coletto di scolciandolo. Sì, ciao. Ciao, ciao. Scusa Paolo ma purtroppo andiamo qui saluti. Leda, di Cremona, complimenti per la trasmissione, saluta tutti. Andrea di Genova richiede Bocce e Barbera di Barbara. Giuseppe dalla Sardegna richiede un pezzo di Maricca e fa i complimenti per la trasmissione. E questa sera non riusciamo a contentare, scusa, negli amici della Sardegna, negli amici della Sicilia perché purtroppo abbiamo una grande serata. Quindi scusate, so che siete in tanti ad ascoltare ma i tempi sono quelli che sono. E rendiamo onore per la famiglia di Castellina e Lucchini. Ma lo faremo eh. Poi lo faremo. Angelita di Genova richiede un pezzo di Caligari se fai complimenti a tutti. Mario di Binasco saluti a Lucchini, un abbraccio a tutti. Ah Mario. Ciao Mario. Ciao Mario. Bruno di Crema saluti a Marco, a Lucchini e a tutti gli ospiti. Mario Bragadini, ciao Mario. Oh grande Mario. Ci fai saluti e fai complimenti a tutti. Emilio di Predosa richiede un pezzo di Romina, fai complimenti a tutti. Domani Romina, domani. Ciao Romina. Dorino di Pavia saluti a Pinino, Pier e a tutti gli ospiti. Luigi di Genova saluti Lucchini e fai complimenti per la trasmissione. Allora Lucchini diciamo che insomma Lucchini non ha finito di vivere, voglio dire ancora vivo. voglio dire, le fisarmoniche ci sono ancora. Mario, Carlo, Magari, oh. Ascolta, dove devono venire? Dove c'era il negozio prima? Prima. Se vai Marco, poi. E Lucchini, basta, la tradizione continua. Pier, allora questo motivo ha visto. Il brano che presentiamo adesso con molto piacere, informazione ridotta, ma sempre con il grande piacere nel cuore perché è stato il brano che ci ha portato al grande successo nazionale. Ed è stato il brano Lucellino, il disco d'oro dell'orchestra Castellina Pasi. E questo per me è stata una cosa grandiosa. Ascoltatelo, è come allora. Dal vivo e poi arriva la gazzella. Per voi, gustateli. Prego. Ma io ho fatto tutto sulla piaia. Buon, buon, buon. Grazie a tutti. 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 No, a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. 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 a 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 tutti. un saluto. a tutti. . a tutti. tutti. a 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 tutti. tutti. a tutti. a tutti. 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 a tutti. tutti. a tutti. a tutti. . tutti. . a tutti. tutti. . . va bene, by Marco e anche la Galletti Boston in questa bellissima fiera a livello internazionale ogni anno noi siamo lì Marco, sei tipo, ho visto che c'hai anche quella di Tiziarino vai a tenere un po' di fotografia in mano, mi resta qualcosa ma roba è da amarti non ho parole Andrea no comment non abbiamo parole sono foto esclusive soltanto per Telecity queste immagini sono le nostre attrazioni che era l'unica orchestra che si permetteva dieci attrazioni tutte le sere e qui ci sono fissate alcune immagini dei personaggi che facevo che erano Sarlò, Don Camillo, Ariosto, il soldato la cartuccia, la donna vagabonda, la mariuccia e l'arabo, Abdullì e Abdullà scusa, tanti applausi questa sera mi riprendi ancora questa? ne sprechiamo uno per questo grande musicista mio carissimo amico io penso che l'Italia che tutti gli italiani grandi e piccoli coloro che hanno amato la musica il maestro Gualdi sia stato un pilastro della musica e del jazz veramente grande questo è Don Camillo in un momento quando faceva la motoretta che partiva non quella di Dino quella di Don Camillo anche Irene eccola qui si vede? ecco perché c'era era così sconcia Irene che faceva sempre vedere i miei indumenti intimi è veramente una vergogna questa era da cancellare vabbè simpaticissima qui c'è il clarinetto che vola qui c'è il clarinetto che vola quando come al solito quando facevo l'uccellino era l'esploit con una siepe di 200-300 persone davanti al palco che ci facevano sorridere e ci facevano tanto piacere questo qui è il torero perché noi una delle poche orchestre romagnole bisogna dirlo questo qui che molti non lo sanno e anche per i musicisti ricordatevi noi siamo stati gli unici che abbiamo composto la bellezza di 32 passo doble e li facevamo ballare a tutti a Torino c'era il concorso di danza del passo doble alle Ruà e all'altro locale che adesso non mi ricordo vicino al Valentino al Valentino facevano le gare come si chiamava? dei piemontesi del passo doble e noi facevamo tutti i brani di ispirazione a queste gare che facevano e invece questa foto qua chi sono questi due personaggi? questo qui è un bambino un bambino un moccioso che veniva a rompermi le scatole continuamente e si è innamorato del clarinetto oggi posso dire apertamente con tutti che il Pier Calegari è il mio sostituto Pinino è stato fortunato che l'ha scoperto io l'avevo in serbo solo per me me l'ha portato via ragazzi godetevelo intanto che c'è va bene godetevelo andiamo in musica Andrea poi rientreremo con Fisarmonicando bravi 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 grazie a tutti 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 Ciao a tutti Grazie 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 a tutti